Buonasera a tutti, grazie di essere qui, grazie a Matteo Cavallaro, Giovanni Diamanti e Lorenzo Pregliasco di averci chiesto di discutere questa loro ricerca insieme a due amici dell'enciclopedia, sono io particolarmente contento di farla insieme a loro, Alessandra e Marco sono anche spesso qui in questa sala a parlare di cultura e cultura politica. A me soltanto introdurre brevemente questo lavoro, è un lavoro fatto molto bene dal mio punto di vista, è un lavoro che cerca di spiegare e di aiutarci a capire quelli che sono stati i risultati delle elezioni politiche del 4 marzo, cerca anche di analizzare quali siano state le strategie dei differenti partiti, i ruoli dei leader e tutto questo secondo me da un quadro chiaro, i numeri ci dicono secondo me con chiarezza un po' quello che è successo. Forse, questo è il mio veramente personalissimo punto di vista, i numeri ce lo dicono il giorno dopo, forse potevamo prevederlo anche qualche giorno prima, nell'introduzione Marco da Milano giustamente usa questo termine spaisamento per cercare anche di dare una lettura di quello che il paese ha vissuto e sta vivendo, forse è più adatto come termine, è un termine che si è strautilizzato, che era cambiamento, noi in Treccani che lavoriamo sull'uso della lingua, dicevamo appunto, lo abbiamo anche scritto, che si è utilizzato veramente in maniera eccessiva il cambiamento per cercare di spiegare che accadeva in Italia negli ultimi anni, giustamente sempre Marco si rifà a Calvino e anche qui utilizza due termini importanti che sono solitudine e spaisamento. Qualche mia sempre riflessione, voglio dire, il partito che sicuramente esce vincitore da queste elezioni è il Movimento 5 Stelle. Anche attraverso l'analisi che è stata fatta io vedo principalmente, scopro poco, devo dire, del perché. Mi sembra tra l'altro che se dovessi dare una lettura, dare una lettura di temi molto propri di una certa storia della sinistra. Leggo così alcuni accenti di Stato sociale, leggo così alcuni temi di lotta ai privilegi che ci riportano addirittura, come dire, alla rivoluzione culturale, ma soprattutto, come dire, l'avere interpretato alcune, al plurale, forme di protesta da parte dei cittadini di questo nostro paese verso appunto molte domande e pochissime risposte. Una sorta di incapacità di ascoltare. Sempre in questa nostra sede abbiamo avuto il piacere di presentare un libro importante per l'analisi, per la raffinatezza dell'analisi di Gianni Cuperlo, nel quale appunto si cercava di capire il perché la sinistra fosse arrivata ad alcuni, questa è una mia lettura, ad alcuni limiti. Proprio in quella presentazione a cui avevo avuto il piacere di partecipare chiedevo appunto a Gianni Cuperlo come mai appunto però ci fossimo improvvisamente accorti di una serie di limiti, di errori e non fossimo stati in grado di mettere in piedi una serie di correttivi. Ovviamente ho avuto per pochissimo tempo una vicinanza con la politica per 22 mesi, sono stati 22 mesi in cui ho avvertito in prima persona questo clima di difficoltà ad avvertire che cosa stesse accadendo nel paese. Mi è capitato in sede di Unione Europea di discutere del perché il mondo e la cultura non doveva essere inglobato in un grande accordo sul commercio che era il TTIP e mi sono trovato di fronte personalità importanti della sinistra che mi rimproveravano che questo poteva significare venire meno ad alcuni accordi con gli Stati Uniti e da quella discussione uscì fuori l'Italia e la Francia, i giornali giustamente riportavano la Francia e l'Italia in difesa del valore e dell'impossibilità di leggere la cultura nel suo valore commerciale. Dico questo perché di fronte vedo un paese spaccato in due in cui c'è proprio sulla cultura una parte del paese e anche della sinistra che ha letto tutta la cultura in un'ottica di monetizzazione, di commercializzazione, non accorgendosi che è più di un milione il popolo che segue i festival culturali, che cerca di difendere un monumento, che tiene con forza viva una manifestazione storico-culturale, che crede nel valore dell'articolo 9 della nostra Costituzione e non ha paura di dire che l'organizzazione voluta dai padri costituenti della difesa dei beni culturali e del paesaggio sono ancora oggi dei luoghi in cui teniamo viva una memoria e un'identità culturale. Ma se leggo quello che è accaduto in Parlamento con l'approvazione dello sblocca Italia ho l'impressione che la sinistra abbia dimenticato che nel suo DNA c'era il fatto che Concetto Marchesi e Aldo Moro discutevano e mettevano a punto quell'articolo 9 della Costituzione. Ecco perché non mi sorprendono alcuni risultati, quel poco che ho potuto scrivere e dire, ho sempre detto che secondo me non è con l'etichetta populismo che capiamo quello che è accaduto, ma probabilmente proprio un problema di antropologia culturale, di incapacità di interpretare quello spaesamento, l'incapacità di dare risposte alle mille domande che vengono dal Paese, che sono domande di lavoro, sono domande di sicurezza, sono domande di futuro, sono domande di quelle che devono essere le vie per costruire tra dieci anni questo Paese nel modo in cui si mostrerà. È un Paese invece che ha lavorato con politiche un po' alla giornata, senza questa capacità di visione e mi colpisce che sempre qui in Treccani abbiamo accolto una straordinaria provocazione o intuizione di una persona a noi molto cara, di cui ieri ricordavamo il primo anno della morte, che è stato Alfredo Reiklin. Proprio parlando delle città e di quella che era appunto la vigilia di un altro appuntamento elettorale che doveva essere un segno che ci avrebbe dovuto veramente indicare che cosa stesse accadendo nel Paese. Eravamo alla vigilia delle comunali di Roma, Torino, Milano, Gagliari, Bologna, Alfredo ci invitava appunto a immaginare un'idea di città nel ventunesimo secolo. Ci immaginava a capire quali fossero appunto le necessità di donne e uomini che vivevano a Roma, che vivevano le periferie come vivevano appunto una città che doveva, volevano che cambiasse, ma di cui non avevano appunto una capacità di visione. Ecco, io mi fermo davvero qui. Grazie ancora ai tre autori di questa ricerca importante. Grazie ad Alessandra e Marco per accompagnarci in questa lettura. Credo tra l'altro che, come tutti gli instant book, abbia un suo valore anche proprio per la rapidità con cui ci vengono dati dei materiali per leggere un passaggio importante come quello che stiamo vivendo e credo di dare la parola a Giovanni. Grazie. Buonasera a tutti. Io comincio con un po' di grazie. Il primo va assolutamente al direttore Brai per l'opportunità importante che ci ha dato di essere qui. Per noi è assolutamente un onore poter presentare questo instant book all'Istituto dell'Enciclopedia Italiana. Grazie agli ospiti che ci aiutano in questa presentazione oggi e che ci forniranno un contributo importante. Per noi anche questo è molto importante. Grazie a tutti gli autori dei capitoli che ci terrei a citare perché sono un po', ed è giusto citarli, sono il nostro socio Davide Policastro, i nostri collaboratori Salvatore Borghese e Martina Carone, poi Francesco Magni qui presente, Guido Salza, Massimo Zanetti, se mi dimentico qualcuno voi ricordatemelo. Grazie all'editore, grazie a Castelvecchi che ci ha permesso di uscire così presto con un'opera molto composita, molto complessa da scrivere, speriamo sia piacevole la lettura. Grazie a voi di essere così presenti in una sera in coincidenza con uno sciopero dei mezzi abbastanza complesso anche questo. È stata una fatica abbastanza importante questo libro, nel senso che uscire così presto con un'analisi del voto implica un minimo di follia, è stato difficile, sono state notti molto difficili e molto intense. Però l'abbiamo fatto perché pensavamo che questa fosse un'elezione da raccontare. È stata una campagna elettorale, è stata una tornata elettorale che andava raccontata. E si tratta, possiamo dirlo senza mezzi termini, noi siamo un paese che per 60 anni ha votato sempre allo stesso modo. In cinque anni siamo di fronte alla terza rivoluzione elettorale consecutiva. E questa in particolar modo è una rivoluzione che ha molti aspetti interessanti. Io mi soffermo un attimo sulla parte di comunicazione, è una delle strategie di comunicazione che è quella di cui mi occupo e di cui ho scritto nel libro. E questa rivoluzione, nello specifico, ha avuto due vincitori in campagna elettorale che esemplificano e che mostrano due aspetti altrettanto importanti delle campagne elettorali, diversi tra di loro. La prima è la Lega. La Lega mostra il trionfo della strategia a lungo termine e della campagna permanente, ovvero questo momento in cui è difficile distinguere tra campagna elettorale e comunicazione di mandato, perché la campagna dura dal giorno dopo l'elezione fino al giorno in cui si vota. Io anni fa sono stato a un dibattito dell'Associazione Internazionale dei Consulenti Politici, Matthew Daud, allora capo della campagna di George Bush e della comunicazione durante la presidenza Bush, disse che il primo memo strategico che fece per George Bush per l'elezione del 2004 lo preparò a gennaio 2001, il giorno dopo l'inaugurazione della presidenza Bush. Quindi questa è la campagna permanente. E la Lega lo dimostra, la Lega ha operato un processo di nazionalizzazione dal giorno della segreteria di Salvini ed è cambiata completamente la comunicazione della Lega, è cambiata la comunicazione, è cambiata la strategia della Lega, è un lavoro che parte da lontano e che va oltre la semplice campagna elettorale. Come si costruisce questo lavoro? Beh, anzitutto la Lega ha cambiato il posizionamento, non più un partito federalista, non più un partito territoriale, ma un partito di destra, alepenista. Dall'altra parte un'apertura al sud, un'apertura al centro Italia e al sud, quindi una denordizzazione nei fatti che ha avuto determinati step, perché le strategie guardano lontano, però la comunicazione ha bisogno di step, di passaggi. Abbiamo visto noi con Salvini la lista che ha affiancato la Lega Nord in alcuni territori nel sud Italia, abbiamo poi visto il cambio di nome da Lega Nord a Lega, abbiamo visto il cambio addirittura di colore, c'era un unico partito in Italia che aveva un colore abbinato alla propria comunicazione, la Lega Nord e il verde. La Lega Nord ha fatto una campagna elettorale blu, tutta blu, quindi cambiando anche nei simboli quella che era la comunicazione e la strategia di comunicazione di una vita per la Lega Nord. La Lega quindi vince e ha due anime in questo momento, un'anima al nord che non cambia nonostante il cambiamento della Lega, al nord la Lega si rafforza ulteriormente, diventa quasi un partito pigliatutto, perché la Lega al nord si rafforza recuperando voti al centro-destra, ma nei flussi elettorali si vede che prende voti anche dal PD, che prende voti anche dai 5 Stelle, quindi al nord la Lega diventa il partito pigliatutto, però la Lega cresce al sud, in contemporanea la Lega al sud diventa il partito della destra, diventa il partito riferimento della destra italiana. E questa è la grande ragione che porta a questa vittoria elettorale. Infine poi, nel libro ne parliamo, ma la Lega è artefice di alcune tra le poche innovazioni che abbiamo visto in questa campagna elettorale. È stata una campagna elettorale povera di innovazioni, soprattutto per il fatto che è stata una campagna, noi la definiamo lampo nel libro, è stata una campagna brevissima. La Lega trova a livello di mobilitazione degli elettori sperimentazioni interessanti. Vinci Salvini è una cosa che ha fatto divertire molti, questo strumento per il quale c'era una gara tra gli utenti Facebook della pagina della Lega e quelli più attivi venivano poi premiati con partecipazioni a incontri con il leader e altro. Quindi questa è la comunicazione della Lega, una comunicazione che premia la strategia a lungo termine. Dall'altra parte il Movimento 5 Stelle per me è un esempio diverso. Il Movimento 5 Stelle ha fatto una campagna elettorale particolare, con momenti di grande difficoltà, ma ha capito una cosa fondamentale, che in un momento in cui il 40% dei cittadini italiani decide all'ultima settimana cosa votare, e la comunicazione del rush finale, quindi delle ultime settimane, è quella che fa la differenza. Io cito nel libro, noi citiamo nel libro, come esempio di ottima comunicazione, il lavoro che ha fatto il Movimento 5 Stelle con la comunicazione dei ministri prima del voto. Una comunicazione fatta a step. Il Movimento 5 Stelle annuncia i propri ministri del futuro governo in momenti diversi nelle ultime due settimane di campagna elettorale. Così facendo occupa le prime pagine dei giornali per due settimane. Quando uno si vuole informare sui giornali, trova il Movimento 5 Stelle in prima pagina. Uno. Due, Di Maio si posiziona come leader libero, indipendente, autonomo, che non deve trattare con gli altri partiti, ma che è libero già di annunciare quello che sarà il proprio governo. E infine diventa una cosa virale, alla fine viene fatto un evento che mette al centro la presentazione di tutta la squadra e sui social media centinaia di migliaia di visualizzazioni, non vorrei dire milioni, un milione e mezzo di visualizzazioni. Quindi da una parte vediamo la strategia a lungo termine della Lega, dall'altra il rush finale. Questi sono i due aspetti che fanno la differenza in una campagna elettorale. La strategia a lungo termine è capire che una campagna elettorale ha momenti diversi e che il momento finale della campagna elettorale richiede qualcosa di più. Potrei parlare per ora di questa campagna elettorale, però penso sia utile sentire l'opinione di tutti. Ho parlato solo dei vincitori, secondo me possiamo parlare dopo del resto di alcuni errori che sono stati fatti o di alcune scelte che magari non sono state sbagliate ma non hanno pagato. Penso però che sia utile sentire anche un po' gli aspetti di dati da Matteo e Lorenzo, altrimenti i miei monologhi potrebbero essere pesanti. Buonasera a tutti, anche da parte mia, grazie a Massimo, tutto il mondo treccani che ci ospita, a Marco che oltre ad essere qua stasera ha scritto una prefazione, mi dicono che poi tu stasera abbia anche un impegno a Piazza Pulita, quindi ti smaterializzerai a un certo punto per raggiungere gli studi. No, però il tema appunto è che Marco ci ha anche regalato nottetempo, poi ci racconterai, mi hai detto che l'hai scritta di notte, quindi mi tendo a fidarmi una prefazione in realtà molto interessante, secondo me molto più del resto del libro, possiamo dire questa cosa. Le due cose interessanti sono la prefazione di Marco e l'intervista mentana, in mezzo diciamo è un po' un riempitivo, un passatempo. Scherzi a parte, grazie Marco e grazie Alessandra che ci aiuterai a avere uno sguardo un po' più di prospettiva sui temi del libro. Per parte mia, visto che Giovanni ha già detto molto, quasi tutto, sui vincitori, vi direi un paio di elementi che hanno caratterizzato il voto del 4 marzo dal nostro punto di vista. Questo libro è appunto un instant book che è nato con l'idea di dare forma e in un certo senso cristallizzare il lavoro che come Quorum e Utrend abbiamo svolto negli ultimi mesi, quindi questo mi dà anche l'opportunità di ringraziare un po' tutto il team appunto di Quorum e Utrend che ha lavorato instancabilmente in questi mesi. Si chiama una nuova Italia il libro perché effettivamente dal punto di vista dei risultati l'Italia che è uscita fuori è un'Italia diversa da come ce la ricordavamo, diversa anche dalle categorie di voto del passato. Il libro è pieno di mappe che aiutano a visualizzare anche questo fattore e chi di voi ha seguito sui siti e in televisione, sui giornali, gli approfondimenti elettorali ha visto quanto l'ondata gialla del 5 Stelle abbia spazzato via dal sud ogni concorrenza, soltanto due collegi mi pare su tre collegi perché sono due in Calabria e uno in Campania, su 80 nel sud sono stati vinti dal centro-destra, tutto il resto è una marea gialla. Quindi un tema vero è stato la polarizzazione geografica, al sud il 5 Stelle che domina ovunque, al nord un centro-destra attrazione leghista che vince quasi tutti i collegi e che si spinge a far arroccare il PD persino nelle regioni rosse, che non sono più rosse. L'Istituto Cattaneo che aveva dato il nome di regioni rosse a Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche dice subito dopo il voto del 4 marzo non sono più rosse, non esistono più le regioni rosse, l'Emilia Romagna per la prima volta dal 1946 non ha votato a sinistra. Quindi è stato un voto epocale dal punto di vista della novità di una serie di elementi, un'Italia come diciamo diversa ma anche divisa, è una prima divisione l'abbiamo detta, nord-sud, un'altra divisione importante è quella che possiamo vedere anche qua cristallizzata nelle mappe e nei dati che sono nel libro tra centro e periferia, tra le città che evidentemente si sono sentite più agganciate all'Europa, forse anche a una ripresa economica più solida, è la provincia, è la periferia che è periferia ovviamente sociale non soltanto geografica. Una delle mappe riguarda la città di Torino che è indicativa da questo punto di vista ma come le altre grandi città anche Milano e Roma, non Napoli in cui 5 Stelle ha vinto ovunque, ma Torino è curioso perché è una città con una storica presenza di voto di sinistra nei quartieri popolari, nei quartieri operai o ex operai, si trova invece a vedere il massimo della concentrazione di voto del Partito Democratico nei collegi centrali, nel collegio centrale e nei quartieri centrali. A Roma il centro-sinistra vince quattro collegi su undici e sono i quattro collegi con il reddito imponibile più elevato. A Milano il centro-sinistra vince tre collegi e sono i tre collegi centrali della città. C'è un tema sociale che poi Matteo Cavallaro lo spiegherà meglio, c'è un tema anche di centralità quasi visibile nelle mappe che sono state prodotte. Insomma sono tantissimi gli aspetti che cerchiamo di toccare nel libro dal punto di vista della comunicazione, dal punto di vista dei risultati. C'è un altro esempio che vi porto, poi appunto lascio la parola a Matteo, che è quello il caso di Più Europa. Io sono convinto, non lo farò, ma che se facessi un sondaggio qui dentro tra i presenti Più Europa avrebbe più del 2,6% che ha avuto alle elezioni, superrebbe lo sbarramento e sarebbe forse il primo gruppo parlamentare. Lo dico diciamo bonariamente ma questa era la sensazione che molti di noi avevano nelle settimane prima del voto. Quanti di noi conoscono amici, conoscenti che andavano in quella direzione lì. Però si è scontrato questo trend comunque positivo, è una campagna anche ben fatta, si è scontrato col fatto che fuori dalle grandi città, nel sud Italia, soprattutto Più Europa ha fatto lo 0,6%, lo 0,8%. Quindi quante bolle, in quante bolle viviamo, attraverso quante bolle leggiamo i dati e leggiamo il nostro paese, non soltanto sui social media. Spero di avervi dato qualche spunto, il resto è ovviamente nel libro perché se no non lo leggete più se vi diciamo tutto e lascio la parola volentieri a Matteo per un punto sulla società italiana e il voto. Grazie mille, io detesto i microfoni, non ho l'abitudine di parlare ai microfoni, malheureusement, francesismo. Sì, effettivamente la società italiana è molto divisa e noi usiamo un'espressione che è quella di tripolarismo imperfetto, che è quello che si vede nella mappa, avete effettivamente due grandi poli con in un pezzo di taglia centrale il colore rosso del PD che continua a resistere. Lo stesso tripolarismo imperfetto si ritrova se andiamo a guardare temi, la divisione del voto per età, non tanto il genere, il genere è uno dei pochi fattori che abbiamo visto non avere una particolare influenza nel descrivere il comportamento di voto almeno nel 2018, può sempre cambiare. E in che cosa si caratterizzano quindi questi tre poli? Inizierei da quello che è comunque stata la lista più votata al momento 5 stelle, che è un partito centrale ma non centrista, non centrista chiaramente per le posizioni politiche, per quella che è l'offerta, ma centrale per quelle che sono le fasce importanti del suo elettorato, vince nelle fasce centrali in termini di età, oltre a essere il primo partito tra i giovanissimi, rimane comunque votato più che nella media nazionale nell'età che vanno dai 25 ai 54 anni. Al picco tra i diplomati che in termini di istruzione rappresentano la fascia centrale nel paese, ottiene ottimi risultati nel lavoro tra chi è attivo così come chi è in cerca di occupazione, mentre cala in chi è uscito dal mercato del lavoro fondamentalmente, nei pensionati. Quindi partito centrale nella società italiana, chi cerca lavoro, chi ha la fascia mediana di istruzione e chi ha l'età mediana come anagrafica. L'altro polo uscito vincente, e in questo mi concentro soprattutto sulla Lega, perché nel centro-destra è la Lega che è uscito vincente chiaramente, si rappresenta come un partito, in cui correggo leggermente il mio collega, di centro-destra l'epinista. Nel senso che è vero che la comunicazione della Lega è una comunicazione di nazionalizzazione e che in alcuni sensi riecheggiava quanto fatto dalla dédiabolizzazione del Front National. Se mi sentite fare dei francesismi è perché vivo in Francia da ormai sette anni. Non è che tu hai. No, infatti. Adesso vi pari. Adesso vi pari. Adesso vi pari. Adesso vi pari. Qualcosa è. Passa. Perché però dico di centro-destra? Perché comunque resta ancora forte in tutta una serie di categorie sociali che sono tipiche del centro-destra. nel nostro sondaggio e intorno alla media nazionale in categorie come le casalinghe, i lavoratori autonomi, i lavoratori dipendenti. Quindi categorie tipiche che noi consideriamo essere lo zoccolo duro del centro-destra perché l'epinista da un punto di vista sociale? Perché aumenta nel lavoro dipendente che in Francia, in particolare il lavoro dipendente non qualificato, quindi gli operai, sono lo zoccolo duro del Front National. e l'ultimo elemento, l'ultimo polo è quello che è uscito sconfitto anche da un punto di vista sociale, quindi non è detto che continuerà a essere sconfitto bisognerà vedere quali saranno le mosse anche nella politica italiana non bisogna mai dare nessuno per morto dal mio punto di vista. E come si caratterizza quindi questo centro-sinistra? Cita giustamente Lorenzo che le parti dove vince da un punto di vista geografico sono i centri cittadini e in effetti vediamo che all'aumentare del livello di istruzione aumenta la propensione di voto per il centro-sinistra e se non ricordo male il PD primo partito tra i laureati di pochissimo ma siamo nell'orrore statistico mentre a livello nazionale è molto sotto se la gioca tra i laureati è inutile dire che i laureati tendono a concentrarsi da un punto di vista geografico nei centri cittadini se però usciamo dal centro cittadino diventa un partito interclassista la composizione sociale del voto di centro-sinistra se escludiamo l'istruzione è quella di un partito della nazione solo che è verso il basso perché l'idea del partito della nazione era di convincere settori diversi del paese ma con altri numeri in questo senso il PD è arrivato a rendere interclassista il suo elettorato perdendo le fasce popolari è un risultato abbastanza paradossale non era chiaramente l'obiettivo ma oggi il PD è nonostante sia diventato anche partito dell'elite perché vince lì dove le elite si concentrano geograficamente è più interclassista rispetto al passato del centro-sinistra e su questo concludo non ho molto altro da dire penso che sia interessante dialogare con il pubblico e con i moderatori qui presenti secondo me un punto interessante che si ricollega al centro-sinistra io ho una laurea in scienze politiche e ho fatto un dottorato in scienze politiche il centro-sinistra ha vinto nell'elite è possibile però governare questo paese senza l'elite chi ha vinto quindi l'Ege e il Movimento 5 Stelle ora dovranno porsi il problema di come dialogare con questi centri di potere che avevano scelto un altro cavallo si può sempre cambiare cavallo questo in Italia non ci sono dubbi ma bisogna fare concessioni e questo è secondo me il tema dal giorno dopo dal 5 marzo diventa il nuovo tema grazie mille allora intanto naturalmente la mia prospettiva è quella di chi ha vissuto la campagna elettorale facendo un programma più o meno tutti i giorni quindi avendo ospiti politici e quindi potendo come dire valutare le cose che voi avete raccolto adesso veramente in modo molto interessante e ha ragione Massimo Brai anche il fatto che è interessante leggere come instant le analisi di campagna elettorale perché ce l'hai fresca in testa tu sia per chi fa il mio lavoro sia per chi possa poi fruire insomma si informi attraverso la televisione o attraverso tutti gli altri canali quindi vorrei fare diciamo così vedere le cose di cui avete parlato che sono scritte nel libro un po' dall'altra parte naturalmente nello spazio di un programma del mattino che ha un osservatorio che può essere interessante nel quale ritrovo insomma molte cose però prima di fare questo volevo lasciare così per poi avere una risposta dopo da voi soltanto un elemento di riflessione a proposito della Lega e cioè mi ha colpito un articolo di Dario Di Vico di qualche giorno fa sì mi sembra qualche giorno fa in cui lui osservava come il tema della Lega e forse la questione della Lega Catch All Party come l'ha descritta prima Giovanni Diamanti la Lega in realtà al nord sia stata capace di interpretare e di intercettare anche un voto che in realtà è di elite se vogliamo in qualche modo e cioè la Lega al nord secondo me è un elemento interessante in realtà ha intercettato anche il voto dei vincitori della globalizzazione non degli sconfitti della globalizzazione allora questo elemento secondo me merita così siccome Dario Di Vico lo osservava in questo pezzo che ho trovato interessante ma mi piacerebbe poi avere una risposta quindi insomma comincio il mio intervento con una domanda ma ve la lascio lì per dopo grazie allora invece dal mio punto di vista la cosa veramente anomala di questa campagna elettorale che avete ragione è stata brevissima ma a noi è sembrata lunghissima perché era quasi impossibile trovare dei temi veramente in grado di essere come posso dire interessanti per le persone cioè avevi un senso come dire quasi di impotenza perché sapevi che una larga parte delle questioni trattate erano di per sé irrilevanti faccio un esempio la campagna elettorale è stata immediatamente dal primo momento una questione di false promesse non c'è stato neanche una settimana da quando è cominciata la presentazione dei programmi non è passata neanche una settimana tra la presentazione e l'aspetto dubitativo sulla irrealizzabilità delle promesse elettorali l'irrealizzabilità delle promesse elettorali ha accompagnato trasversalmente la costruzione della campagna elettorale dal punto di vista di tutti gli ospiti che si sono presentati nei talk il che secondo me è un'anomalia perché è vero in tutti gli studi di comunicazione politica parlano diciamo così e raccontano a cominciare insomma tantissimi tutti raccontano e evidenziano come la gente sappia in larga parte che le promesse sono false però almeno un'aspettativa attorno a qualcuna ce n'ha e soprattutto normalmente c'è quella costruzione retorica perché nessuno dice che questo è irrealizzabile questa costruzione retorica c'è stata ma contemporaneamente tutti dicevano che erano irrealizzabili allora io credo di aver invitato una quantità di economisti di qualsiasi facoltà di qualsiasi università italiana e tutti spiegavano la stessa cosa cioè tutti facevano lo stesso conto se non lo facevano loro lo facevano gli stessi esponenti politici gli uni agli altri compresi come posso dire a un certo punto non so pure i 5 stelle facevano il conto dell'irrealizzabilità delle promesse degli altri e nello stesso tempo tutti affollavano lo stesso segmento cioè il segmento comunque della spesa del deficit e anche la questione del deficit il dogma del 3% che è diventato uno slogan di campagna elettorale erano diverse gradazioni di sforamento del 3% quindi questo meccanismo secondo me ha reso come dire particolare questa campagna elettorale perché ripeto è stato immediatamente così le false promesse erano un tema idem l'Europa l'Europa che sembrava il grande cavallo di battaglia l'anti-europeismo in realtà vince un fronte euroscettico ma è uno dei tanti paradossi molto ampio però è un fronte euroscettico che si è corretto rispetto all'inizio cioè si è corretto sia perché non è più referendario sia perché l'uscita dall'euro non è più Borghi e come si chiama e Bagnai sono stati silenziati e sono venuti anche nelle trasmissioni rispetto a un anno fa quindi prima della campagna elettorale con armi molto più spuntate quindi in realtà quali sono stati i veri temi sicuramente la sicurezza con un'impennata nel dopo macerata ma era anche il racconto del dopo macerata e soprattutto liberamente non c'era questione di numeri di dati di meno sbarchi di questioni quante ne abbiamo fatti Lorenzo che è ospite fisso di omnibus anche di contrasto percezione e realtà quante ne abbiamo fatte di puntate così sulla sicurezza e questo evidentemente non ha questo non ha cambiato nulla diciamo non ha tolto nulla alla rilevanza del tema questo per dire che dal mio punto di vista dal punto di vista di chi fa il mio lavoro questa anomalia fa sì che ancora oggi a campagna elettorale conclusa rimangano tanti punti interrogativi e cioè forse in realtà i giochi erano come dire già fatti da prima è stata quasi non voglio dire irrilevante perché naturalmente non è così ci sono slogan più o meno azzeccati però evidentemente se tutto questo non è stato il vero tema ci deve essere qualcosa che ha funzionato prima ora non so se ha ragione Ricomentana nell'intervista finale che dice è figlia della sconfitta del referendum forse però è figlia anche di tante altre cose però certamente questa peculiarità secondo me forse merita una riflessione un'altra cosa che volevo dire poi concludo e poi magari ci sarà modo di tornare su questi argomenti che trovo molto interessante è la questione del populismo non sono tanto d'accordo con Massimo Brai nel senso che io invece penso che l'etichetta populismo abbia un senso naturalmente a patto che la guardiamo in una maniera un po' come dire articolata e cioè c'è una io noto che sia la Lega sia il Movimento 5 Stelle ne abbiamo parlato del populismo in un certo senso una parte di atteggiamento populista del renzismo e anche del berlusconismo ancora prima ne abbiamo parlato tante volte però nella vittoria dei 5 Stelle e della Lega comunque ha degli aspetti marcati di populismo nel senso se vogliamo considerarlo come la pretesa di rappresentare tutto il popolo se vogliamo partire da questa definizione che secondo me è abbastanza calzante perché è l'azzeramento dei pluralismi il libro di Müller esattamente mi riferio proprio a quello che cos'è il populismo è pubblicato in Italia da Egea è un libro molto interessante secondo me questa è la parte interessante ma poi dentro questo tema applicare questa categoria all'Italia dove ci sono due populismi quindi la pretesa di essere l'unico rappresentante del popolo è smentita dall'esistenza dell'altro ecco non so ho messo lì più che altro dei punti interrogativi però spero che servano a dibattito come si dice sì grazie va bene anch'io dico poche cose perché il libro mi è arrivato un'ora fa la prefazione l'ho scritta appunto in trans notturno e ricordo a malapena cosa ho scritto e quindi però no no però invece intanto stavo pensando una cosa venendo qui e stanno ascoltando che questo è un appuntamento singolare perché sono passati 18 giorni dal voto ed è praticamente la prima sede in cui si fa un'arte nobile della politica sparita nel nulla cioè l'analisi del voto perché noi siamo quel paese in cui si fa molto l'analisi dei sondaggi prima del voto che a un certo punto diventano tipo gli oroscopi e insomma tutti noi li maneggiamo a pieno titolo soprattutto nei 14 giorni che precedono il voto quando non sono più pubblicabili e quindi a quel punto cominciano fantozianamente a girare le voci più incontrollabili e c'è stato in questa campagna elettorale nel giorno del voto addirittura il caso del sondaggio fake che in realtà era preciso al millimetro al decimale di punto quindi siamo arrivati a questo a questo livello il appena si è votato appena si è votato il voto sparisce dai radar cioè non si sa cosa è successo si sa che è come se il voto fosse considerato negli ultimi anni una specie di di fixing che viene dato per poi giocarsi la partita nelle sedi parlamentari nelle sedi politiche indipendentemente la qual è la composizione del voto io invece penso che questo l'analisi del voto sia qualcosa di molto importante sia qualcosa di centrale credo che non è un buon politico un politico che non fa l'analisi del voto e credo anzi che uno dei problemi della crisi della politica sia stato anche questo che il voto non viene considerato neppure nel suo aspetto crudo nudo materiale andare a vedere sezione per sezione come si faceva un tempo quanti voti si sono persi quanti si sono conquistati e perché si sono persi o perché si sono conquistati quindi da questo punto di vista un libro come questo è prezioso io so che resterà sul mio tavolo nei prossimi nei prossimi cinque anni o quello o quello che sarà perché consente di fare una fotografia non soltanto della politica ma della società italiana la società italiana che non ha molte occasioni in fondo poi di rivelarsi è una di di svelare cosa c'è di profondo che cosa si muove negli umori una di queste occasioni è il voto stamattina stavo a un'assemblea al liceo Augusto a San Giovanni è un ragazzo un ragazzo che appena votato è uno dei ragazzi del 99 diciamo evocati dal presidente Mattarella nel messaggio di fine anno ha dichiarato di aver votato un movimento cinque stelle ma soprattutto diceva ma perché voi giornalisti non non vi non vi chiedete cosa c'è nella società e questa è una domanda forse adolescenziale ma faceva un certo male sentirla perché noi siamo bravi nel fare le analisi del giorno dopo e non l'analisi del voto che si fa il giorno dopo e magari non raccontiamo qualcosa che era già visibile io direi alcune cose di questa campagna elettorale particolari senza altro la sua breve durata anche se anche a me è sembrata interminabile alcune condizioni strutturali di diversità dalle altre la mancanza dei soldi per esempio la mancanza di una forma di finanziamento pubblico o di rimborso pubblico si è visto si sono visti i pannelli vuoti si sono viste molte meno iniziative pubbliche molti meno candidati in giro anche laddove c'erano i candidati nei collegi uninominali non si è verificato qualcosa di simile a quello che c'era con il Mattarellum dove i candidati facevano la corsa a sé anche perché non solo i candidati dell'uninominale erano minoritari rispetto a quelli del proporzionale ma perché il meccanismo del voto congiunto in un'unica scheda portava anche i candidati dell'uninominale a fare la corsa per il proprio partito perché nella confusione del voto io questo ne ho parlato con molti candidati e chiedevo ma tu chiedi il voto per te o per il tuo partito e loro gli dicono no per il partito perché evitava confusione il candidato della Lega nel collegio uninominale diceva vota Lega e voterai anche per me questo anche ha favorito alla fine l'unico partito che non era coalizzato con nessuno e poteva dire con molta chiarezza linearità chi vota il Movimento 5 Stelle mette una croce vota tutto e via questo ha depotenziato però uno degli aspetti importanti del collegio uninominale che è appunto la qualità del candidato la sua storia personale le sue competenze ecco tutto questo in realtà non c'è stato e quindi questo è un elemento strutturale importante l'altro elemento strutturale è il mix tra la legge proporzionale e la legge uninominale cioè noi siamo tornati dopo molti anni a una campagna elettorale proporzionale e c'è chi l'ha saputa interpretare meglio di altri la legge elettorale proporzionale fa cadere ad esempio il voto utile perché non c'è quell'atteggiamento per cui dice voto quello anche se non mi piace perché non voglio che vinca quell'altro come ad esempio succede alle amministrative con i sindaci il voto utile nella proporzionale tutti i voti sono utili perché si vota essenzialmente per rappresentarsi per dire chi siamo e per stabilire i pesi questo incide però anche sul dopo voto nel senso che poi dopo il voto invece i vincitori si sono atteggiati a vincitori di una campagna elettorale maggioritaria quindi appunto i vincitori i vincitori nella legge elettorale proporzionale non sono i vincitori della partita successiva che è il potere di coalizione cioè chi ha più capacità di fare una maggioranza chi ha più capacità di fare coalizione ecco credo questi due elementi strutturali in una campagna elettorale molto breve hanno anche provocato questo risultato senza precedenti in cui però i partiti non sono rimasti fermi questo è stato un elemento di novità rispetto a campagne proporzionali di un tempo in cui si puntava soprattutto sul conquistare i propri elettori i due partiti vincitori vincitori della corsa il 4 marzo non ancora della corsa che si apre domani mattina hanno messo in campo una volontà e una capacità alla prova dei fatti di superare i propri confini il confine territoriale per quello che riguarda la Lega da partito del nord è diventato partito nazionale da partito regionale o macro regionale per dirla con miglio è diventato partito sovranista il movimento 5 stelle ha superato i propri limiti che era il limite che sembrava invalicabile stabilito da Beppe Grillo nel 2013 con il 25% e gli 8 milioni di voti il limite di essere un partito della protesta un partito della rivolta un partito del vaffa e quello che sta succedendo in questi minuti prima avete visto un po' di trambusto ci segnalavamo delle cose io e Alessandra cioè che tra un'oretta tutti i capigruppo di tutti i partiti vanno nella sede del movimento 5 stelle per fare un super vertice e sinceramente io non ne ho memoria di una cosa del genere no esatto esatto quindi tutti i capigruppo di tutti i partiti vanno nella sede del movimento 5 stelle per decidere i presidenti delle camere è una trasformazione inaudita perché il partito nato come il partito dell'antisistema cioè quello che vuole aprire il Parlamento come una scatoletta come noto diventa e si propone esplicitamente come il partito del nuovo sistema cioè nella nuova Italia come recita il titolo del vostro lavoro il partito del nuovo sistema è il movimento 5 stelle o almeno si candida ad esserlo si candida ad esserlo nella composizione sociale del suo elettorato si candida ad esserlo nel comportamento del suo vertice almeno in queste prime battute si candida deve esserlo anche rispetto rispondo alla domanda di Cavallaro rispetto alle elite perché anche se la campagna elettorale non è stata rivolta alle elite ma rispetto al 2013 ha delle quasi elite o delle elite vogliamo dire delle vice elite magari non il più importante medico di un collegio ma quello che è quasi il più importante quindi una tipologia comunque molto diversa soprattutto nelle regioni del sud rispetto all'uno vale uno del 2013 cioè la ricerca di collegio per collegio di un notabilato chiamiamolo così che non è il notabilato noto quello che sta nelle prime file quando c'è una cerimonia pubblica una manifestazione magari sta in una seconda fila ma in questo essere seconda fila gli permette di avere un collegamento anche con la prima e comunque di parlarci di essere riconosciuti dalla prima e di rappresentare tutte le file dietro perché comunque non è la prima fila la prima fila va abbattuta perché la prima fila è quella che ha portato al disastro al tempo stesso un'altra trasformazione quella di Forza Italia dal radicalismo alla moderazione non dimentichiamoci che durante la legislatura del 2013 si è aperta per Forza Italia con il trauma dell'espulsione del suo leader dal Senato in seguito alla condanna ma anche con il tentativo di buttare giù il governo Letta di tornare al voto di sfidare il Quirinale tutto poi rientrato in una strategia anche questa di lungo periodo di Berlusconi che da quando poi ha accettato di fare i servizi sociali di non attaccare più i giudici di non devastare più le istituzioni ha cominciato una lunga marcia verso la moderazione che però non era un ambiente che lui aveva frequentato nella sua storia infine il PD che è entrato in forte contraddizione con se stesso perché è stato insieme il partito dell'establishment quindi quello della prima fila e quindi come tale si è caricato tutto quello il PD pensava di positivo che era successo in questi cinque anni invece si è caricato agli occhi delle file che stavano dietro tutto quello che non andava tutto quello che non funzionava e al tempo stesso non è riuscito neanche del tutto però a esercitare questa funzione di asse del sistema di rappresentanza degli interessi dell'establishment perché ha comunicato anche soprattutto prima della campagna elettorale ma visibilmente un'anima di opposizione un'anima per esempio sulla nomina del governatore della Banca d'Italia per esempio nello sfidare alcuni poteri proponendosi come il partito che avrebbe cambiato e avrebbe rovesciato alcune istituzioni alcuni uomini alcuni 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 ambienti e questo messaggio evidentemente non è apparso credibile quindi non è riuscito il meccanismo di essere in questo un partito per così dire di lotta di governo che dovevano esprimere poi plasticamente le due figure che trainavano la campagna elettorale cioè Matteo Renzi e Paolo Gentiloni il mix di queste due spinte alla fine è stato a somma zero anzi ha fatto perdere molti voti rispetto a partiti che sono apparsi anche più credibili questo ci pone una serie di problemi politici di cui si parlerà ne parleremo a partire da domani l'importante è che in questa nuova Italia quindi in questa Italia spaisata con la sensazione di non ritrovarsi più nelle bussole e nelle mappe del passato bisogna bisogna capire se è uno spaisamento continuo o se qui si ferma per ora l'onda perché l'Italia è a ben vedere sottoposta a un'onda certamente almeno dal 2012 dal 2013 la precedente fase quella del 1994 una fase per me abbastanza simile perché è una fase fondativa a quella del 2018 è durata una ventina d'anni bisogna vedere se da questa da questa elezione nasce un nuovo equilibrio almeno nell'elettorato e a quel punto richiederà sicuramente dei meccanismi elettorali di adeguamento per rendere per così dire perfetto il tripolarismo perfetto nel senso di Giorgio Galli che dia alla fine però un risultato ci sono tre poli ma alla fine uno riesce a vincere anche se questo pone sempre più problemi democratici perché in un bipolarismo uno vince uno perde in un tripolarismo si rischia di governare di prendere tutto con il 30% e allora questo dal punto di vista politico richiede un grosso problema dal punto di vista sociale anche perché chiudo tutti ragioneremo in questi giorni della maggioranza politica parlamentare cioè come si fa 315 e 161 ma io ho dedicato l'ultima copertina dell'espresso questa parola fratture ma ci sono delle fratture nella società nei corpi intermedi nella cultura nel mondo della cultura nel mondo dell'impresa nel mondo del sindacato nel mondo dell'associazionismo che sono molto difficili da colmare e che sono molto difficili da portare a maggioranza cioè il problema della disgregazione di tutti gli interessi che diventano un pulviscolo e non hanno più dei canali di rappresentanza che compongano prima di tutto una maggioranza sociale di cui poi spesso nella storia italiana la maggioranza politica non è stata altro che l'interfaccia l'interfaccia politico così come negli Stati Uniti la coalizione rusveltiana era prima di tutto un blocco sociale che aveva poi anche un leader e un partito e così la coalizione reganiana negli anni 80 ecco qui si fa fatica a fare maggioranze anche nella società e la maggioranza la difficoltà o addirittura forse l'impossibilità di fare maggioranze politiche rischia di essere soltanto lo specchio di queste fratture nuove nella società grazie se c'è qualche domanda grazie tanto ringrazio Giovanni che prima ha citato insomma anche diciamo noi coautori dei vari capitoli del libro mi presento per chi non mi conoscesse mi chiamo Francesco Magni sono un avvocato di Roma e seguo coniutrando le questioni diciamo più giuridiche sulle vicende elettorali e in modo particolare sulla legge siccome non mi capita spessissimo di averli diciamo tutti insieme anche sulle questioni politiche e di avere anche degli ospiti così importanti le questioni che vi pongo sono due la prima è che forse oggi ne ha una rappresentazione plastica in molti paesi il vento del populismo soffia soprattutto sulla questione Europa è stato un argomento centrale in Francia della Brexit non ne parliamo proprio perché era il tema dell'elezione eppure ho l'impressione che i due diciamo partiti che sono tacciati di essere populisti abbiano abbassato moltissimo i toni in campagna elettorale tanto è vero che oggi in circa 60 minuti di discussione noi stessi non ne abbiamo parlato e quindi diciamo volevo capire qual era la vostra opinione su questo e se di fatto anche per noi è una sorta di falso problema in cui anche chi dovrebbe essere più anti-europeista di fatto poi non parla di questo tema qui e la seconda è quanto questo assetto tripolare o tripolare imperfetto possa incidere anche sulle modalità di voto degli enti locali perché il sistema a elezione diretta era un sistema che andava molto bene fin quando i polli erano due oggi la stessa elezione della regione Lazio dimostra come con un certo tipo di legge elettorale il rischio sia quello di avere sempre più anatrezoppe nei nostri antilocali grazie allora no rispondo rapidamente a questa prima coppia di domande di Francesco tanto vi segnalo che una nuova Italia è diventato quarto trending topic in Italia grazie ai vostri tweet quindi continuate a farlo questo segnala che la platea non è assolutamente rappresentativa del paese ma più 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 seriamente sì allora tema Europa anch'io ero convinto ti dico su queste sono le poche cose che che premente erano state lette con anticipo correttamente non è stato poi il tema della campagna elettorale soprattutto all'estero molti osservatori erano convinte che si giocasse su quello l'impressione che si sia giocato su altri temi non è stato alla fine il punto il punto focale della campagna molto più in modo indiretto cioè l'Europa come no causa o responsabilità della crisi sociale delle dei vincoli sui conti e quindi della mancanza di lavoro eccetera 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 quindi l'ho vista più come dire in seconda battuta come tema poi faccio una domanda molto tecnica sui sistemi elettorali a livello locale effettivamente poi un tema un tema vero non riguardo solo la regione Lazio ma anche alcuni comuni importanti nel nostro paese è un tema di cui riflettere teniamo presente che adesso alcuni no propongono di adottare il doppio turno simil comunale alle politiche quindi andremo in una direzione semmai opposta rispetto rispetto a quella che ci si poteva attendere aggiungo come ultima riflessione sul sistema elettorale che è uscito in modo molto carsico il rosatellum a cui tutti attribuiscono e ascrivono la responsabilità dei risultati dell'assenza di una maggioranza di governo autonoma in verità non può essere indicato come responsabile di questo il nostro Salvatore Borghese ne ha scritto diffusamente anche oggi qualunque sistema elettorale precedente o di altri paesi applicato al voto del 4 marzo secondo le nostre valutazioni non avrebbe prodotto una maggioranza autonoma quindi questo è un tema che lascio al dibattito con questa affermazione hai fatto la gioia di Ettore Rosato che continua a citare questa cosa di U3 ha ragione su questo ma sarebbe cambiata invece con una diversa legge elettorale la campagna elettorale questo sì molto possibile volevo solo aggiungere una cosa sul tema Europa visto che abbiamo dei dati da citare direttamente dal libro perché abbiamo chiesto agli italiani che cosa ne pensavano dei temi Europa e abbiamo declinato in due domande diverse uno sul riprenderci la sovranità e uno sull'uscita dall'euro e una delle ragioni per cui poi c'è stato secondo me una moderazione sull'euroscetticismo è che da un lato anche il tema della sovranità è molto divisivo con l'Italia spaccata in due tra una parte che vede nell'Europa quasi una salvezza e una parte che richiede più sovranità e la seconda domanda sull'euro vede comunque una maggioranza abbastanza netta di italiani rimane un tema abbastanza divisivo ma il 58% degli italiani dice che ha paura dell'uscita dall'euro e quindi ed è una domanda molto forte perché abbiamo proprio usato un termine molto forte un termine catastrofe per cercare di stimolare e il 58% degli italiani ha detto sarebbe una catastrofe uscire dall'euro di fronte a questi dati io capisco li abbiamo noi ma penso che siano arrivati a tutte le segretterie di partito capisco che ci sia un attimino una retromarcia una curiosità su tutta la campagna elettorale generalmente le campagne elettorali sono più lunghe dal punto di vista ne parlavate prima insomma del fatto che è stata abbastanza corta quindi come mai questo secondo voi e l'altro aspetto è normalmente c'è il classico colpo a effetto dei vari partiti che arriva nelle ultime due settimane normalmente in questo caso sembra che siano arrivati gli annunci più importanti all'inizio per poi arrivare in discesa insomma alla fine queste erano le due insomma curiosità rispondo diamanti parla proprio di questo rush finale di come l'ho azzeccato il Movimento 5 Stelle giusto secondo me è proprio un tema chiave il Movimento 5 Stelle è l'unico oddio non è l'unico è quello che più di tutti mostra di aver capito cos'è il rush finale e nel rush finale cambia completamente non solo cambia la propria comunicazione ma trova un un tema chiave cioè in questo caso la presentazione dei ministri la presentazione dei ministri diventa il momento centrale di tutta la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle e soprattutto mette abbastanza in secondo piano gli altri questo noi abbiamo visto in Italia che il rush finale è il momento in cui si decidono le campagne elettorali ricordiamo Lici e Berlusconi ricordiamo insomma diversi annunci alla fine soprattutto il Movimento 5 Stelle ha mostrato di averlo capito e il dato evidente del fatto che sia stata premiata questa scelta è dato dagli stessi sondaggi i sondaggi pubblicati che tutti abbiamo visto sono quelli pubblicati a due settimane dal voto e davano il Movimento 5 Stelle tra il 28 e il 29 ha chiuso con una percentuale diversa sì il sondaggio può sbagliare quello che vogliamo però noi che avevamo visto i sondaggi degli ultimi giorni non pubblicabili possiamo confermarvi che era evidente un trend di forte ascesa del Movimento 5 Stelle da una parte e della Lega che era meno evidente dall'altra parte che però Luca Morisi qui presente che ha curato la campagna e la strategia di Salvini in questi anni ci diceva nell'ultimo periodo che ci sarebbe stata questa ascesa della Lega l'avevamo vista meno rispetto a quella dei 5 Stelle però i 5 Stelle sono cresciuti negli ultimi giorni per questo il Partito Democratico invece ha fatto un po' l'esatto opposto all'inizio abbiamo visto alcune proposte alcuni tentativi di proposte forti di Renzi anche sul canone Rai il salario minimo il canone Rai diverse le ha accantonate un po' tutte alla fine e questo secondo me è stato un tema sono d'accordo su questo tema e paradossalmente quello che ha azzeccato meno il rush finale è stato Berlusconi che è sempre stato il maestro della tempistica di campagna invece il mio punto di vista poi credo condiviso anche da voi è che Berlusconi ha sparato tutto all'inizio per arrivare adesso chiedo a Luca per arrivare nei sondaggi di gennaio davanti alla Lega e ottenere più collegi più candidati nei collegi che è quello che gli consente oggi di avere con 4 punti in meno al Senato praticamente gli stessi parlamentari della Lega cioè tatticamente l'ha azzeccata ma ha perso l'ultime due settimane in cui non si è visto ho una postilla è così però se ne è accorto gli ultimi giorni infatti si è visto il venerdì lui lancia la candidatura di Tajani a Premier nel tentativo di recuperare un po' la visibilità mediatica del rush finale che secondo me è proprio sintomatico del fatto che si è accorto alla fine di essere di aver avuto una mancanza è un tentativo però di rush finale si è accorto alla fine di non avere quella visibilità che in genere aveva nella chiusura di campagna e ha provato con questa mossa dice Marco Dammiliano probabilmente un autogol anche secondo me in parte ho sentito che anche la stessa Ghisleri ha detto che a un pezzo di elettorato è arrivato con un gesto di debolezza cioè non sono io il leader non è arrivato Tajani abbiamo un leader è arrivato non sono io il leader mentre Salvini appunto era già da un anno che aveva la scritta Salvini Premier quindi però insomma però è vero che ha cercato di fare inventarsi anche lui un fatto comunicativo io mi domandavo se il tema del voto utile sia stato assente l'impressione è che sia stato usato in termini rovesciati non di votate per me ma votate contro quell'altro e siccome l'han detto in due Berlusconi e Renzi io credo che questo elemento ha contribuito parecchio a far avanzare le 5 stelle mi aggancio rapidamente a quello che ha detto adesso Lorenzo e Giovanni per quanto riguarda Berlusconi e a quello che sono i mezzi di comunicazione perché poi in realtà Silvio Berlusconi essendo figlio della seconda repubblica è figlio della cassettina mandata forse è cambiato completamente il quadro forse televisioni e giornali hanno cambiato completamente il quadro della campagna elettorale perché non sono stati centrali visto che i social network e comunque quello che è tutto il mondo della rete è stato centrale e in questo molto probabilmente anche il lavoro di Luca Morisi da questo punto di vista è stato fondamentale l'uso degli slogan l'uso dei termini e qui mi rallaccio alla seconda domanda l'uso di termini così semplici su temi fondamentali come l'economia e l'immigrazione la centro-sinistra lì è stato perdente ma molto banalmente perché fare uno slogan non immigrati non euro il centro-sinistra ci mette un quarto d'ora da questo punto di vista e questa qualsiasi comunicazione qualsiasi mezzo possibile rende comunque è un grosso problema e quindi mi chiedo se voi da questo punto di vista avete visto delle differenze sostanziali anche all'interno dell'ambito del centro-sinistra su questo e poi mi riaggancio alla prima domanda chiedendovi per l'appunto quanto i social network non voglio adesso scomodare tutto il caos adesso di Cambridge Analytica e tutto il resto quanto in questa lunghissima campagna elettorale come è stato detto prima il lavoro di 5 Stelle e la Lega hanno sostanzialmente pasturato per quello che è successo il 4 marzo innanzitutto buonasera è bello ogni tanto essere spettatore e non attore di questo processo complesso che è il marketing politico i social media sono una parte del tutto una parte molto rilevante perché oggi su Facebook ci sono 30 milioni di utenti italiani e quindi è non più un campione non più un'elite ma è un popolo quindi noi li abbiamo usati con le tecniche che ritenevamo importanti per quel tipo di mezzo no? McLuhan diceva il medium è il messaggio quindi tu lo devi adeguare al tipo di strumento non è che puoi usare i social media come fanno alcuni usando le tecniche che ne so della cinematografia piuttosto che di altri media o dei comunicati stampa i social media hanno un loro linguaggio e una loro metodologia molto specifica quindi sono sicuramente importanti e fondamentali ma non sono l'unico aspetto io ogni tanto ricordo che nella campagna di Salvini che confermo è permanente per me è sembrata lunghissima la campagna elettorale perché noi siamo in campagna elettorale praticamente da quando è stato eletto segretario anche da un po' prima perché noi ci siamo conosciuti su facebook nel 2012 quindi il ruolo dei social è importante anche perché consente queste conoscenze che poi possono essere messe a frutto ma Salvini naturalmente è un animale mediatico come lo definisco io quindi ha delle grandi frecce al suo arco di comunicatore sui social in tv e in radio ma anche sul territorio un trittico di ibridazione mediatica che io definisco formula TRT tv rete territorio Marco da Milano mi fece un'intervista lungimirante nel 2014 credo e parliamo proprio di questo quindi i social media sono fondamentali secondo me ma non sono l'unico aspetto va fatto interagire il facebook instagram twitter con le partecipazioni televisive radiofoniche che sono comunque un importante circuito mediatico che ancora detta in parte l'agenda politica probabilmente la tv e la radio ancora hanno un ruolo maggiore dei social media nel dettaglio dell'agenda e il territorio Matteo Salvini a prescindere dalle sue posizioni politiche ha girato l'Italia da nord a sud si è fatto 300 comizi nell'arco di due mesi la gente oggi ti vuole toccare perché in qualche modo con la comunicazione digitale è diventata un po' deprezzata la notizia nel senso che tu la trovi dappertutto però la persona in carne ed ossa è più rara è una merce più rara il Vinci Salvini che è stato ridicolizzato diciamo nasce però io lo ritengo un esperimento anche sociologico che ha avuto un certo successo perlomeno ha incontrato gli obiettivi che mi ero proposto erano da un lato l'obiettivo era quello di in qualche modo spingere l'algoritmo di Facebook a promuovere di più i post perché c'era questo concorso lo dico per chi non lo sapesse che dava più punti a chi metteva il mi piace più velocemente e quindi con una fan base comunque molto importante come quella di Salvini fare tanti mi piace velocemente spingeva l'algoritmo a mostrare il post e quindi aumentare il numero di mi piace e poi l'altro aspetto cioè quello che il premio sostanzialmente era la telefonata con Matteo Salvini e la pubblicazione della propria fotografia sui social di Matteo Salvini che sono comunque raggiungono complessivamente circa 3 milioni di persone tra Facebook Instagram e Twitter quindi un po' grande fratello un po' disintermediazione rapporto diretto e un po' diciamo anche grip tecnologico perché tu chiaramente devi cercare di sfruttare quello che hai a disposizione in questo caso Facebook quindi questo è il quadro i social sono importanti ma non sono tutto lo dice uno che sui social vive ogni giorno mi sembra che Luca Morisi abbia confermato che è stata come dicevi la campagna elettorale Salvini lunghissima pensata da prima cioè diciamo la campagna permanente è vera la strategia del lungo termine rispetto alla tattica degli ultimi giorni questa era la secondo me è ciò che ha contraddistinto la Lega qui comunque non è mancato l'aspetto di mobilitazione era il finale non so se ci sono altre domande buonasera una riflessione sulla figura di Renzi l'ingombrante presenza di Renzi candidato premier candidato no candidato un po' di lato rispetto a Gentiloni quanto ha pesato la presenza di Renzi non solo sull'elettorato non PD chiaramente proprio su quello PD sull'elettorato PD diciamo di non fede renziana per capirci io penso questa sarebbe una domanda a cui sarebbe interessante la risposta di tutti perché è un tema è un tema chiave Matteo Renzi di sicuro ha giocato un ruolo particolare in questa in questa campagna elettorale dopo un periodo in cui il suo indice di gradimento nazionale è molto calato ha diciamo recitato un ruolo che non è il suo cioè quello di un leader che non si mette in prima linea perché tenta di far emergere anche un po' c'era un manifesto emblematico del PD vota la squadra vota la squadra che poneva appunto l'accento sul fatto che il Partito Democratico è convinto di avere una squadra e una classe dirigente di livello importante però dall'altro lato è anche un'evidente depersonalizzazione della campagna elettorale quindi strategicamente era sicuramente corretto puntare un po' meno su Renzi visto il momento dall'altro lato il vero punto di debolezza di questo è che non è nella natura di Renzi ne evidenzia il momento di debolezza da un lato e lo snatura quando un leader non è più se stesso è un po' come dire un leader a metà diciamo c'è stata questa questa campagna particolare di una sorta di leader a metà perché soprattutto nell'ultimo periodo diversi esponenti del PD hanno iniziato a parlare apertamente di Gentiloni come possibile premere questo da un lato di sicuro poneva l'accento sulla leadership e il gradimento di Gentiloni dall'altro però indebolito un po' ulteriormente la figura di Matteo Renzi però appunto su questo secondo me è interessante sentire un po' tutti posso dire una cosa io penso che questo sia un tema molto interessante e che la risposta ci vorrà anche un po' di tempo per stabilirla perché ci sono diversi elementi secondo me e cioè intanto incrocia la questione della personalizzazione delle leadership in questa campagna elettorale che era proporzionale e quindi si è creato un meccanismo secondo me interessante falso ma interessante una falsificazione per cui si sono creati candidati premier non potendoci essere i candidati premier visto che il sistema è proporzionale lo vediamo anche ora però evidentemente è talmente diffusa e fondamentale la personalizzazione della politica anche adesso che ti devi inventare qualcosa quindi chi non ha potuto avere il candidato premier un po' come era successo all'epoca quando c'è stato il 94 Occhetto Berlusconi Occhetto era quello nel confronto che non poter rispondere alla domanda ma chi va a Palazzo Chigi dei due quello era l'inizio del maggioritario quindi era l'inizio del bipolarismo e Berlusconi l'aveva capito e Occhetto no quindi la situazione è diversa però da allora in poi non è possibile non avere un leader e qui però c'è anche diciamo Matteo Renzi ha dovuto fare questo e in parte secondo me qui sarò maliziosa però secondo me ha giocato sia in termini di comunicazione politica questa cosa sia in termine di politica cioè ha fatto politica con la scelta di dire è la squadra e serviva a precostituire il terreno a quella che poi è stata la dichiarazione del giorno della sconfitta e cioè non ho perso io è stata colpa della squadra avete visto mi avete fatto fare la campagna con il braccio legato e soprattutto mi avete detto che dovevo dire che Gentiloni e Minniti erano bravi non sono stati tanto bravi perché Minniti ha perso nel suo collegio perché Gentiloni tutti questi voti la figura di Gentiloni non l'ha portata e così via quindi secondo me io ci vedo del fare politica in quella scelta e una comunicazione politica che certamente non corrisponde al carattere di Renzi e però in tutto questo c'è una questione per la quale veramente non ho una risposta ma soltanto come dire una composizione fatta di tanti elementi e cioè è diventata una figura a un certo punto Matteo Renzi molto odiata dentro questo odio c'è anche qualcosa di ancora non messo a fuoco perché forse tanto si spiega per esempio con una cosa il meccanismo per cui è rimasto in gioco pienamente dopo una sconfitta storica come quella del referendum e quindi in Italia tutti ritornano ma non ritornano subito e lui è tornato subito e quindi secondo me ha violato come dire questo tabù una regola anche Berlusconi non è tornato subito dopo due cioè ci ha messo del tempo e invece lui sì è vero si è dimesso presidente del consiglio ma lo sappiamo ha fatto subito le primarie quindi la prova muscolare l'ha data subito e questo forse non è stato perdonato però dentro questo c'è anche qualcosa che forse ancora non si mette a fuoco non so anche in questo caso veramente di psicologico perché c'è un elemento irrazionale anche che non è soltanto critica politica che secondo me si è visto e si è visto piano piano e si è visto anche nella costruzione del gentiloni antagonista di Renzi che naturalmente aveva un fondamento di verità politica in azioni in cui si sono trovati in contrasto ma che è diventato parte di uno storytelling e di uno storytelling sicuramente forse per l'establishment per i giornali più che è però che in qualche modo è arrivata è arrivato anche questo non so no soltanto per porre delle domande la mia impressione per questo rifiutavo l'etichetta di populismo perché non vorrei che stiamo continuando a leggere quello che è accaduto nella società italiana in base a exit poll o a interpretazioni dei giornalisti e lo dico con tutto rispetto per le persone che veramente stimo la mia impressione è che si è cambiata la società italiana è un periodo che mi sono fissato che devo rileggere Uluf Palme c'è un passaggio che ho letto oggi che lui dice noi siamo nati e moriremo il giorno in cui non difenderemo gli ultimi e proveremo a ridurre le diseguaglianze secondo me quello che è accaduto è solo questo che è moltissimo cioè noi abbiamo una sinistra che non ha saputo ascoltare e capire che c'è un paese dove nel mezzogiorno un giovane su due non riesce a trovare lavoro che dei 500.000 italiani che sono a Londra oltre al 70% fa lavori sicuramente non corrispondenti a quello che ha studiato cioè sono cifre impressionanti e questa difesa è venuta da due altri partiti quando appunto giocando in tre cani noi vediamo che accanto al populismo ci sono le parole si diffonde ed emerge quindi c'è in tutto il mondo e quindi dovrà arrivare anche in Italia rischiamo di non capire che cosa sta accadendo come diceva giustamente Alfredo Reichen c'erano le elite forse oggi ci sono come dire tutti noi che abbiamo un piccolo privilegio e come diceva Togliatti c'è il popolo ma questo popolo non l'abbiamo saputo ascoltare non lo sappiamo interpretare non sappiamo leggerlo forse l'hanno letto meglio di noi qualcun altro ecco la mia impressione è che sono anni che stava come dire maturando questa risposta e che è venuta a galla sì 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 volevo solo intervenire su questo perché c'è un passaggio del libro proprio sul fatto che il PD se analizziamo il programma rispetto al 2013 se facciamo un paragone ha diminuito molto l'accento alla diseguaglianza parlano piuttosto di lotta alla povertà e nella tradizione politica la lotta alla diseguaglianza è quella che caratterizza i movimenti socialistici una critica alla struttura che è diseguale bisogna cambiare la struttura la lotta alla povertà è quella che caratterizza il cristiano democratico una posizione centrista di tutto rispetto che è sì esattamente portare gli ultimi a un livello di sussistenza e sono due culture politiche diverse e il PD sembrerebbe aver fatto questo passo su questo faccio crollare il livello rispetto a Massimo Brahi però visto che si parlava di comunicazione da questo punto di vista lo spot a puntate che ha prodotto il PD a un certo punto era emblematico perché lo spot che era giustamente mirato su un target molto particolare cioè quegli elettori indecisi che non volevano votare il PD per mille motivi perché gli stava antipatico Renzi perché aveva tradito la sinistra perché per una serie di mille motivi ecco però veniva messo in scena sul piano sociale non sul piano politico cosa veniva messa in scena una famiglia con una cucina grande come questa stanza in cui con il sole ormai alto all'orizzonte quindi non alle sei del mattino ma insomma con una colazione viene fatta a giorno ormai inoltrato si discuteva senza partire con la tavola apparecchiata si discuteva del programma del PD o addirittura se ne discuteva in macchina andando verso non si sa dove ecco sul piano politico era un target preciso che poi si faceva anche carico perché in fondo è la seconda volta nella storia delle campagne elettorali che un partito si fa carico degli elettori e poi fa schifo quel partito l'altra volta era lo cito sempre un manifesto della DC del 1975 con uno slogan che recitava 30 anni di libertà alcuni buoni altri meno buoni ma tutti nella libertà che era anche in quel momento un momento di grossa difficoltà per la DC che infatti perse fragorosamente quelle elezioni amministrative contro il PC di Berlinguer ed era la premessa poi delle elezioni del 76 con l'interno del sorpasso i propagandisti della DC della SPES l'ufficio propaganda all'epoca si facevano carico di dire beh in effetti non è che è andato tutto bene insomma siamo con l'inflazione a due cifre ministri corrotti stragi sui treni referendum sul divorzio con mezzo paese che ci ha voltato le spalle se venissimo qui a dire tutto va bene saremmo dei matti alcune cose buone altre meno buone ma tutte nella libertà quindi il messaggio finale era guardate però se vincono quegli altri vi levano il passaporto e non potete andare via neanche dal paese arrivano i carri armati sovietici quindi ritorno beh non andò bene neanche quel messaggio questo 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 spot appuntate si faceva carico del fatto che c'era un certo tipo di elettore che diceva questa volta non li voto non ne posso più questa volta non li voto però era terribilmente sbagliato il target sociale non il target politico era il lettore dei giornali il ceto medio riflessivo molti di noi che sono in questa stanza che erano che forse volevano votare più Europa anziché il PD e tutto il tema di cui ha parlato Massimo di cui c'è traccia e adesso leggerò con attenzione ma insomma il 47% dei disoccupati è votato per il momento 5 stelle il 9% ha votato PD il 46% delle casalinghe che non sono la moglie di quello non voleva votare il PD ha votato il momento 5 stelle e il 12% ha votato per il PD perfino il 38% di studenti contro il 21% insomma sono numeri impietosi e quindi pensare che poi fai una campagna di comunicazione in cui tutto il problema ruota dell'abitante del centro storico che è indeciso se votare il PD o la Bonino beh se tutto il concentrato della comunicazione della grande macchina comunicativa si è infilato in quel ha individuato in quel elettore indeciso il target da conquistare poi non ti puoi stupire che nella sterminata periferia del paese hai preso percentuali ridottissime ma questo il consiglio appunto è studiare questi dati prima di continuare a individuare un sentimento giusto ma con un target sociale sbagliato sì no una cosa rapidissima è che e questo mi fa mi consentire agganciarci all'intervista a Enrico Mentana che è alla fine del libro effettivamente alcune avvisaglie di questo della frattura sociale e del cambiamento che c'è a Massimo Brai di alcuni settori della società italiana geograficamente soprattutto concentrati al sud ce li avevamo avuti con il referendum costituzionale col 70% di no in Sardegna in Campania e in Sicilia non si pensava che poi restasse così immutato quel blocco ma mi aspetterei che gran parte di chi ha votato no per dare un segnale il 4 dicembre abbia votato poi probabilmente 5 stelle nel sud e magari la Lega nel centro nord quindi questo è un tema vero la sconfitta del 4 marzo per il centro-sinistra che è il dato più basso della storia della Repubblica italiana nasce anche il 4 marzo e paradossalmente il 4 dicembre chiedo scusa 4 dicembre 2016 paradossalmente peggiora perché il giorno dopo il 4 dicembre si disse beh è solo il 40% ma è tutto è tutto capitale di Renzi e poi alla fine invece si è si è svuotato si è ossificato anche quello una battuta anch'io sulla sconfitta del PD io quando ho iniziato a fare quando ho iniziato a fare questo vi siete lamentati che parlavo solo dei vincitori no quando ho iniziato a fare questo mestiere che è il mestiere del consulente politico una delle prime cose che ho imparato era un famoso aforisma quasi di Jacques Seguela Jacques Seguela storico pubblicitario francese applicato alla comunicazione politica e fece alcune storiche campagne elettorali ed è sempre stato uno che alla comunicazione politica comunque abbinava una forte etica e un forte anche impegno politico vi ha sempre detto tre cose si vota per il futuro e non per il passato si votano le persone e non i partiti si votano le idee non le ideologie io penso che i primi due punti spieghino molto della sconfitta del PD in queste elezioni ancora chiuderei no ma sì e anche perché c'è tutto il tema di chi è al governo cioè chi è al governo comunque un po' è il passato quindi la rivendicazione era l'osservazione che fate voi nel libro la rivendicazione ossessiva di tutte le cose fatte era un po' il passato oggi essere l'incambient 10, 15, 20 anni fa era un grande vantaggio oggi è lo svantaggio principale nessuno vuole andare al governo esatto esatto non auguriamo a nessuno di governare mettiamolo a presenza ma questo non è cambiato grazie buonasera grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti